Venerdì 22 giugno in primo piano nel TGL News la cronaca perché un 17enne era stato denunciato una decina di giorni fa perché è trovato in possesso di droga, ebbene ieri è stato fermato e trovato con altri 56 grammi di marijuana nascosti nei calzini e nelle mutande, è stato quindi arrestato dai carabinieri, un controllo su un'automobile, il giovane che dunque era già stato segnalato, dava anche segni di nervosismo, i militari hanno proceduto con la perquisizione e gli hanno trovato addosso questa droga, dunque l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Parliamo dei venerdì piacentini perché scattano questa sera, c'è il concorso di Miss Italia ma anche tanti appuntamenti che riguarderanno un po' tutte le piazze del centro storico, i negozi aperti, dunque si rinnova questo appuntamento molto atteso dai piacentini che andrà avanti per 5 venerdì consecutivi, dunque fino oltre la metà di luglio. Oggi era anche la festa dell'arma del Genio, sfilata in Piazza Cavalli e poi celebrazione alla caserma Nicolai del secondo reggimento Genio Pontieri, sono stati premiati anche coloro che si sono distinti in particolare per gli aiuti dati dalle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia. Chiudiamo parlando di due incognite che avvolgono ancora le società sportive piacentine, la prima riguarda la Wix LPR Volley, sembra che si stia mettendo assieme sia il budget sia la squadra per disputare il prossimo campionato di Serie A2 con i diritti di una squadra laziale che appunto non proseguirà in Serie A2, dunque c'è una speranza più che concreta a quanto pare, meno concrete ancora tutte da valutare invece quelle per il proseguimento dell'attività del proprio acenza calcio in Serie C. Oggi stasera incontro probabilmente decisivo con una cordata potenzialmente interessata, il patrono Alberto Burzoni che ha annunciato di voler abbandonare, ha chiesto proprio a questi possibili acquirenti in particolare ai loro legali, garanzie, solide garanzie perché appunto il PRO possa proseguire. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e ovviamente nel TGL delle 19.30.